Quando non buttate i aligalini, quando non buttate, perché che cosa dobbiamo fare? I figli denti. E loro mangiano tutte le spine. C'è un arsenale? No, il corteggio non lo mangiano. C'è un arsenale. C'è un arsenale? C'è un arsenale? C'è un arsenale? Guarda, guarda. Ok, molto bene. È un giusto lavoro. C'è un arsenale? C'è un arsenale? C'è un arsenale. Ma sa quando... No, però mi ha detto lei che ha detto. No, ma lo sa dire. Ehi, parlava molto meglio dell'inglese quando ero con loro. Molto meglio. Con i germanesi? No, con l'inglese proprio. Con l'inglese. Io sono stato con il comando inglese e anche con il comando americano. E parlava molto meglio di loro. Ho entragnare. Oh ok, poi. De fi s해. Unated. Un easter. kilaterà d' blessing. Grazie.